bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news di fortnite delle ultime 24 ore le trovate racchiuse in questi pochi minuti oramai manca solamente il weekend e poi lunedì appena entreremo a dicembre vedremo l'evento della season 5 lo so che sembra lontanissimo ma in realtà passerà in uno schiocco di dita e finalmente vivremo insieme anche la season 5 nel video di oggi ragazzi vi faccio sentire un estratto di una base musicale che sembrerebbe far parte dell'evento non vi preoccupate niente di grave ma voglio farvelo sentire parleremo anche di alcune coincidenze molto particolari di un argomento che sta abbastanza scaldando gli animi e poi della possibile introduzione di un personaggio famoso nelle skin di fortnite prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta proprio di una notizia di un post ufficiale un tweet sulla pagina di fortnite per il terzo anno consecutivo fortnite viene nominata agli game awards quest'anno con tre categorie anche l'anno scorso anche due anni fa era successa la stessa cosa best community support ora io non avevamo già guardato questo argomento l'anno scorso perché l'avevano e ha vinto anche tra l'altro l'anno scorso per il best community support non non sono così d'accordo per questa nomination best ongoing game e il best esport game ovviamente visto che comunque ci piace un sacco fortnite auguriamo ad epic games di confermare anche quest'anno la vittoria di più e words possibili in modo da confermarsi sempre un gioco sulla cresta dell'onda il più giocato molto probabilmente ancora per molti molti anni e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle è un argomento molto caldo di cui si sta discutendo proprio in queste ultime ore sui forum dedicati a fortnite ci sono anche dei video su youtube a molti non è andata giù quello che ha fatto fortnite quando ha rilasciato le skin della nfl quindi due giorni fa le dieci skin epiche e quella moltitudine assurda di arbitri molti si sono arrabbiati per un discorso molto semplice guardate a sinistra abbiamo l'arbitro uscito nella stagione 6 se non ricordo male a destra l'arbitro uscito due giorni fa è praticamente identico così come un altro arbitro lo striped soldier che come vedete ragazzi non ha assolutamente nessuna modifica il problema è che sono skin diverse quindi se qualcuno come me o come altre persone desiderava desiderava avere il full shop è stato costretto ad ad acquistare due skin uguali questa cosa ha dato abbastanza fastidio se ne parla tuttora e anche io sinceramente avevo notato una certa somiglianza ma non avevo mai avuto il tempo di guardarla approfonditamente e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è successo un mezzo è successo un mezzo casino ragazzi gli ha bucato praticamente le chiavi chiamiamole così di registro per poter scioppare in anteprima le novità che saranno introdotte nel pass battaglia della season 5 il problema è che qualcuno ci è riuscito veramente lo ha fatto io non voglio assolutamente dirvi come hanno fatto perché è una cosa che ha fatto fare parecchio tutti quelli di epigames tanto che hanno fatto un post dove dicono direttamente a magma reef che sono praticamente il supporto tecnico ufficiale su discord di fortnite che dice chiunque divulghi i codici di a delle api praticamente quindi le chiavi che vi ho appena detto non passerà il prossimo futuro felicemente questo vuol dire ragazzi non cercate come si fa non fatelo perché se si accorgono che siete riusciti anche voi perché i tutorial ci sono comunque ad avere in anticipo il pass quindi a scoprire delle cose vi prendono l'account ve lo mettono nella lista nera e voi non potete più accedere a fortnite ci sarà un perm ban quindi ragazzi attenzione non fate le stupidate non non giocatevi l'account solo per la curiosità due giorni tre massimo di attesa e sapremo finalmente tutto e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ieri avevamo visto il post ufficiale di fortnite il teaser tra virgolette del prossimo evento dove diceva fighting galactus tipo 87 non dimenticare il jetpack quindi sono dei consigli su come combattere il galactus avevamo visto anche questa immagine dove appunto c'è una terra desolata sotto i piedi della skin e i giocatori le skin appunto che si sono salvate che se ne stanno andando con il jetpack la cosa veramente curiosa ragazzi è che ritorniamo un secondo tip 87 quindi consiglio numero 87 il problema è che il numero 87 era uno di quelli estratti nel buco nero che ci ha portato nel capitolo 2 di fortnite quindi come vedete anche qua c'è un chiaro riferimento ad un evento importantissimo che ha segnato proprio la la svolta no di fortnite e la svolta di moltissime persone che portano fortnite vanno ancora appunto a ritornare lì mentre ieri arriva il nuovo tip tra virgolette i hangers from the zero points galactus is closing in lui dovrebbe essere tradotto come lui affamato del punto zero galactus è in arrivo è molto vicino vi faccio sentire un audio ragazzi sono veramente pochi secondi dovrebbe essere dicono una parte di background del dell'evento non è niente di esagerato ascoltiamolo insieme quindi come vedete un una manciata di secondi presi appunti da presi appunto da un'orchestra sembrava comunque molto imponente e quindi diciamo che l'hype piano piano sale e vi faccio vedere prima di salutarvi come sempre le aggiornamenti sul galactus in game sta quasi completamente emergendo la testa del divoratore di mondi è arrivata quasi agli occhi non credo che arriveremo a vedere dato che i giorni sono molto pochi il corpo probabilmente si alzerà ancora un pochettino e mostrerà quanto cavolo è gigante e tra l'altro anche il donato va a cambiare la sua immagine di copertina e ci infila dentro un bel galactus insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video ma mi raccomando non vi dimenticate di lasciare il like ragazzi soprattutto un commentino se vi va aiutatemi a farlo andare nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao 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 ciao